Buon pomeriggio a tutti ragazzi, io sono World B23 per questo video, parleremo di una cosa molto bella, ve l'avevo promesso il sedicesimo episodio della glacia al vendore, mi sa che questo scioglimento dei ghiacciai sta portando il disgello raga, sta arrivando, certo, poche nevicate, sta arrivando il disgello, tutti i ghiacciai si sciolgono e il mare si ingrossa, dobbiamo cercare di scappare perché tutti gli animali sono lì ragazzi, abbiamo sprecato habitat per piacere, tutti gli animali raga sono in pericolo, dobbiamo salvarli. Forse qualcuno può aiutarci. Buon avviso per il video del sedicesimo episodio. Grazie. 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 Vedete la neve è poca, però sta arrivando pomeriggio, tornerà a nevicare un po' più forte, e meno male. Raccogliamo le bacchie della bestia edrofo. 92 ghiande, ottimo. Devo farmi dare una mano da qualcuno ragazzi. La paglia è d'aiuto. La paglia è d'aiuto. La paglia è d'aiuto. La paglia è d'aiuto. diamo quanti amici o? 46 raga 46 amici manca poco all'obiettivo ok andiamo a esplorare la nuova terra 12 ore ancora ragazzi siamo arrivati qua sede 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 2 chiande ottimo raga e già siamo a 94 qua quando ci vuoi un nuovo oggetto ottimo raga allora nido la benda ma che mi serve la benda 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.